I think it's time to talk Nico, arriva una sconfitta sicuramente inaspettata, complimenti al Torre Maggiore, grande partita, cosa non ha funzionato da parte vostra? Sì, complimenti a loro perché comunque hanno avuto la personalità giusta per giocarci la partita e hanno meritato la vittoria perché comunque hanno giocato meglio di noi. È stata una partita strana sotto tutti i punti di vista e forse questa sconfitta arriva nel momento giusto perché adesso abbiamo la possibilità di fare lo scontro diretto e se si vuole vincere il campionato bisogna andare a Canosa e vincere. Problemi più dal punto di vista tattico o dal punto di vista dell'approccio mentale? Tantissimi problemi per quanto mi riguarda, è stata una partita giocata malissimo, questo ci deve far fare un bagno di umiltà, lavorare forte in settimana e andare a Canosa a vincere se veramente vogliamo vincere il campionato. Perché comunque mancano, tolto la partita di Canosa, altre due partite più i due recuperi e se qualcuno pensava di aver già vinto magari si sbaglia. Per vincere il campionato bisogna vincere fino all'ultima giornata. Nel pregara avevi già avvertito qualcosa che non andava, poi le sensazioni sono diventate in realtà onore al Torre Maggiore che ha fatto veramente un'ottima partita, però non abbiamo visto il solito Molfetta. Sì, le sensazioni erano quelle, mi aspettavo una reazione caratteriale dopo l'ottima prestazione di sabato, il timore era quello di avere una parte contraria rispetto a quello. Merito anche dell'avversario che è venuto ordinatissimo a giocarsi la gara, noi è mancato il piglio gara che solitamente abbiamo e su questo dobbiamo riflettere in settimana. Abbiamo visto più che altro una mancanza di cambio di marcia con il quinto di movimento perché ovviamente lo sai meglio di noi, quando operi quel tipo di soluzione tattica la velocità e la precisione fanno la differenza, la precisione è mancata ma soprattutto la velocità troppa trasmissione di palla, troppo lenta. Sì, quello è l'ultimo atto del film, il problema è stato a monte perché avevamo l'atteggiamento, non mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo avuto, quindi su questo devo lavorare in settimana perché non sono riuscito a trasmettere forse quella volontà che ogni squadra dovrebbe avere in ogni singola gara, in ogni singola gara che fa parte del percorso di crescita e se vuoi arrivare a certi obiettivi è chiaro che devi fare percorso gara dopo gara. Siete però ancora padroni del vostro destino ma sabato la partita contro il Canosa è uno spartiacqua. Paradossalmente come sempre dico sono partite che dal punto di vista dell'atteggiamento penso che sono già pronte e proprio questo è il motivo per cui oggi potevamo e dovevamo ambire e fare meglio perché con le partite di sabato sicuramente ci prepariamo bene perché sono partite di cartello ma penso che come atteggiamento ci faremo trovare pronti perché la posta in palio è altissima.